Promuovere un rapporto sempre più stretto tra teatro e territorio, tra istituzioni culturali e cittadini. Guardando a questi obiettivi, torna, rinnovato di una proposta più ampia, a Teatro in Bus, progetto promosso dai comuni di Vaiane e di Vernio, in collaborazione con il Teatro Metastasio e per la prima volta con il Politeana. Agli appassionati del palcoscenico viene messo a disposizione un pacchetto tutto compreso, che prevede alcuni spettacoli della stagione 2023-2024 e il servizio di trasporto dalla vallata direttamente a Prato. È un modo per abbracciare questi teatri provinciali, per valorizzare la loro programmazione e per offrire un servizio che davvero è sempre più richiesto dai nostri concittadini. Per cui sia il valore culturale che il valore sociale di questa iniziativa è importante. Centrale è il ruolo delle nostre biblioteche, la Biblioteca Basaglia a Vaiano e la Biblioteca Petrarca a Di Vernio. Le biblioteche come luogo di incontro, come luogo di studio, di lettura, ma anche come luogo di cultura, dove è possibile appunto sottoscrivere gli abbonamenti per venire a teatro in bus. Una collaborazione iniziata oltre 20 anni fa con il Teatro Metastasio. Un progetto di cui siamo sempre molto contenti, devo ringraziare i comuni di Vaiano e di Vernio perché ci danno l'opportunità di consolidare il rapporto con gli spettatori della vallata. Debutto invece per il cartellone del Politeama. Il nostro è un teatro del territorio, assolutamente legato al territorio, inteso come area vasta e quindi per noi è fondamentale raggiungere il pubblico dovunque abiti, dovunque si trovi.